Salve a tutti, oggi vi diamo il benvenuto al giorno 2, day 2, day 2, di Iperfestival delle Periferie. Lo facciamo con una riflessione sul museo, quindi inauguriamo questa giornata parlando di musei, di museologia, di studi museali. Per farlo oggi abbiamo sul palco, oltre al direttore del Museo delle Periferie, due graditi ospiti che sono Vincenzo Padiglione e Vito Lattanzi, che ringraziamo. Sono due antropologi, museologi, che hanno avuto larga esperienza anche curatoriale, con i musei, le istituzioni, le università, quindi non solo nel campo di studi ma anche nella pratica museale, museografica e museologica, e che soprattutto hanno seguito la storia che ha preceduto il prequel del momento in cui ci troviamo oggi. Noi siamo al Festival delle Periferie e questo festival, oltre a essere un grande momento di riflessione sul tema delle periferie sotto la lente di tutte le discipline, è anche un modo di presentarsi alla città da parte del Museo delle Periferie, cioè è il RIF, RIF è la parte centrale della parola periferia, quindi si vuole subito dare luce al centro. Il RIF è un museo che fa parte dell'azienda speciale PalaExpo, quindi della famiglia dei quattro musei insieme al Macro, al Mattatoio e al Palazzo delle Esposizioni, ed è un museo che ha una peculiarità, cioè ancora non ha pareti, è un museo come qualcuno ha detto ma solo alberi, è un museo che non ha una sede fissa, che si trova qui come quartier generale e siamo oggi qui al teatro di Torbella Monaca perché la sede del museo sorgerà a Torbella Monaca, ma la sede appunto sorgerà, ma l'attività del museo è nata prima della sua costruzione, questo perché l'assenza di pareti non è stata considerata dal direttore artistico Giorgio De Finis un ostacolo, ma anzi un'opportunità, perché facendo luce sulle periferie siamo, come dire, più aperti a scala globale e possiamo non essere confinati ma essere diffusi tramite la tecnologia, come nel caso di questo Festival e delle attività e tramite le attività presenti nelle città. Questa è la premessa, ma noi adesso torniamo indietro, dato che voi avete seguito la storia di questo museo. Questo museo non nasce oggi appunto, ma è il frutto di un percorso che è iniziato molti anni fa e che continuerà in futuro, non sappiamo come, che nasce dall'esperienza prima del MAM, del Metropolis, il museo dell'altro e dell'altrove, della città meticcia di Metropolis e poi è proseguito con il DIF di Formello e poi ancora con l'esperienza del macroasilo che voi avete conosciuto da vicino. Allora, Vincenzo Padiglione, ti chiedo una prima riflessione su questo percorso. Quanto ti sembra coerente e quanto... No, incoerente non lo è. Però diciamo tu che hai seguito passo passo questa... credo che sia già acceso il microfono. Puoi parlare? Sì. E intanto buon sabato e grazie ancora a Claudia e... Dovresti avvicinare? Sì, Claudia e Giorgio di farmi rincontrare con Vito Lattanzi e di riflettere su queste cose sulle quali diciamo siamo andati effettivamente da tempo riflettendo. C'è continuità e c'è, a mio avviso, c'è una forte continuità con la storia, diciamo così, di Giorgio De Finis, antropologo, non solo antropologo ma anche antropologo e questo a me sembra importante perché qua siamo due antropologi e perché di fatto forse l'antropologia può essere una delle chiavi, almeno non l'unica, ma una delle chiavi di interpretazione della periferia e dall'altra parte del museo contemporaneo, cioè della connessione tra museo e città. E quindi questo aspetto mi sembra molto importante. Credo che, diciamo così, lo sviluppo dei lavori di Giorgio sia proprio nella direzione che sta assumendo la museologia ormai dagli ultimi 20-30 anni, da quando ci siamo attivati noi. E credo che, se abbiamo tempo, forse varrà la pena proprio di riflettere su questa, diciamo, discussione in atto a livello internazionale sulla definizione di museo da parte dell'ICOM. C'è una definizione che, ecco, va oltre le pareti. Mi sembra molto chiaro l'indicazione che prima Claudia ci suggeriva, no? È stato scelto tutto sommato, diciamo, sembra un qualcosa di negativo, invece offriva una, diciamo, possibilità di pensare quello che non è stato, diciamo, pensato. Uno dei seminari che abbiamo organizzato con Giorgio e con Daniele Giallà al macro era stato proprio il museo che immagino. Perché c'è questa novità, come posso dire? Il museo non è più un qualcosa di stabile, di definito, e credo che, diciamo così, le istruzioni sull'uso che ne dà Vito Lattanzi, nel suo bellissimo libro Musei e Antropologia, sia proprio all'insegna di una grande capacità di adattamento. È come un organismo che si è adattato ad un contesto via via diverso e ogni volta, credo, ecco, vorrei mettere un puntino fisso, ogni volta, essendo capace di interpretare la crisi, credo che oggi quello che noi ci aspettiamo dal Museo delle Periferie, come dalle altre precedenti esperienze che ha fatto Giorgio, è di essere, diciamo, capace di essere un sismografo della crisi contemporanea, di essere capace proprio dalla periferia di darci le indicazioni di quello che stiamo soffrendo. Molto spesso sottovalutiamo il fatto che le persone soffrano nella contemporaneità. E il museo, molto spesso, è un luogo consolatorio, così come lo conosciamo. Un luogo dove la bellezza serve per chiudere gli occhi. Ecco, invece, questo non lo facciamo e sicuramente non lo farà Giorgio De Finis e Claudia con il nuovo progetto. Grazie, Vincenzo. Del resto, il grido scritto che vedete alle nostre spalle, che ci viene da Scampia, è stato un grido di cui si sono fatti portavoce i writers a Scampia. Ma questo dateci un museo scritto e urlato a gran voce vuol dire che la periferia ha bisogno di un museo, che non vuol dire che ha bisogno di bellezza, perché questa retorica della bellezza che salverà il mondo forse è un po' da smussare. Viva la bellezza, però non è di bellezza soltanto che c'è bisogno. Quindi nasce un museo nelle periferie, un museo nella periferia di Roma, ma che non è solo nella periferia, perché ha raggiunto anche il centro, che si occupa di periferie. Quindi c'è un rebound, un boomerang, un'azione diffusa, partecipativa, corale, come nelle caratteristiche dei progetti di Giorgio, che arriva fino ad oggi al festival. Sì, vengo sollecitato ad una riflessione, intanto anche io ringrazio Giorgio, Claudia e il Museo delle Periferie dell'Invito. Questo grido che leggiamo sui muri di Scampia, che insomma dà un po' in là questa nostra riflessione, è interessante perché in qualche modo ci rimanda a quello che è stato il grido di tutte le periferie del mondo, che a un certo punto hanno scoperto il museo come un dispositivo straordinario di riflessione, di autoriflessione e di conservazione del patrimonio. E molti dei musei nati in epoca postcoloniale, nei paesi studiati dall'antropologia, hanno utilizzato questo dispositivo per ricostruire la propria identità e farne uno strumento della memoria per rappresentare il passato e attraverso il passato rappresentare se stessi. Quindi non è casuale che, soprattutto in un'epoca come la nostra, dove il museo è diventato veramente un genere di successo, come anche Vincenzo ha sottolineato in epoche diversi anni fa, e i numeri lo dimostrano, nel senso che prima della pandemia il numero dei visitatori che ha frequentato gli oltre 5.000 musei censiti dall'Istat in Italia è aumentato in maniera vertiginosa, peraltro contribuendo in maniera significativa, come alcuni studi autorevolissimi hanno messo in evidenza, a determinare un contributo fondamentale al PIL nazionale. Ecco, il museo è diventato evidentemente una parola chiave e questa rivendicazione da parte delle periferie però ci fra riflettere sulla opportunità di ripensare il museo anche come qualcosa di meno tradizionale. E d'altra parte, nel corso di questi ultimi decenni abbiamo assistito anche in Italia, tutto sommato, all'indebolimento dell'idea di museo monumento, di museo pensato come un'istituzione evocata esclusivamente alla conservazione del passato. Il museo si è trasformato piuttosto in un'agenzia di sviluppo locale spesso. Gran parte dei musei nati nelle periferie, e possiamo considerare periferie anche le aree interne, le aree marginali del nostro paese, sono musei locali, territoriali, ecomusei, che spesso non hanno mura e partono dal presupposto fondamentale più volte sottolineato e mi piace insomma richiamarlo con le parole di Pietro Clemente, che è un altro compagno di strada, voglio dire che ci ha in qualche modo seguito e in qualche modo fiancheggiato, aiutato anche, voglio dire, a mettere a fuoco meglio molte delle riflessioni fatte sul tema dei patrimoni. Il museo non è dentro le sue mura, ma il museo è nelle relazioni che riesce a creare all'esterno, nel territorio. Ecco, gran parte di questi musei che hanno sostanzialmente portato il centro in periferia, questa è un'altra parola chiave che Pietro Clemente riprende da Adorno, e Adorno che legge Walter Benjamin. Che legge Walter Benjamin, poi Vincenzo magari argomenterà in maniera più puntuale su questa questione, ma questo riportare il centro in periferia è, se vogliamo, un'inversione di tendenza di un percorso iniziato negli anni, nel dopoguerra, e su cui vorrei dire qualche cosa, lascio la parola per poter proseguire il dialogo, altrimenti diventa un monologo. Grazie. Grazie, tante riflessioni. Del resto, appunto, il museo cambia ruolo, ma già negli anni Sessanta, John Keenard diceva, il museo presta l'orecchio alla comunità. Tu mi sa che l'hai prestato, questo orecchio. John Keenard, negli anni Sessanta, non aveva a disposizione la tecnologia, internet, ma con un museo che poi è diventato, come dire, forse il papà di tutti i musei che hanno prestato l'orecchio, che era il famoso Anacostia della Smithsonian Institution di Washington. Quello era un museo creato da una comunità poverissima, marginale, che non era la Torbella Monaca di adesso, non c'era l'acqua, i servizi igienici, era veramente un luogo depresso che ha coinvolto la popolazione locale per fare un museo che poi adesso studiamo su tutti i libri. Oggi la periferia è diversa, per fortuna i servizi minimi ci sono, manca molto. Tu però sei sempre stato attento alle realtà marginali, all'inizio, col Maham, per esempio, prestando voce anche oggi alle periferie, però hai fatto un percorso che comunque hai sempre condiviso con la comunità a cui ti sei rivolto. Raccontaci questa costellazione che passa dal Maham al Diff, al Macro, al Riff, e che oggi ci porta qui. In realtà io dirò una cosa che magari, ecco, verrò allontanato dagli amici antropologi ripudiato dalla comunità, proprio perché la parola comunità a me non piace, come non piace la parola identità, come non piace locale, come non piace tante altre cose. Ovviamente queste parole contano, queste realtà contano, contano le persone innanzitutto, contano i luoghi, contano i territori, ma sono quello che si chiama il site specific, cioè un progetto si cala in un luogo e ovviamente ha una relazione con quel luogo e si costruisce insieme con le persone che lo vivono, lo abitano, nel caso del Maham è un museo abitato, o lo attraversano. Ma non si ferma lì, almeno per come interessa a me, cioè i miei musei sono anche l'opposto, cioè sono anche oggetti alieni, ma non nel senso imposti, ma come dire, dispositivi di incontro tra cose lontane, persone lontane, realtà lontane, lavorano sempre su scala urbana, non su scala locale, per questo dico un po', la comunità è qualcosa che prova, diciamo, da una parte a non farci sentire soli in città, dove tutti ci sentiamo un po' così perduti, ma la città è anche quello, cioè ci piace perché ci sorprende, perché non ci conosciamo tutti, perché no, se no stavamo al paese, no, allora va bene la comunità, ma va bene anche un dispositivo che porta cose lontane e che ci, come dire, sollecita a incontri, io ho paragonato sempre il MAM, al bar di Guerre Stellari, no, al bar di Guerre Stellari, dove tante forme aliene stavano lì, più o meno pacificamente, perché poi ogni tanto in quel bar si sparava anche qualcuno, come nel bar, nei saloon del Far West, ma, diciamo, però erano, mi interessava l'incontro, infatti al Metropolis abbiamo portato, Metropolis, che è una comunità molto differenziata, molto varia, però anche accumunata da problemi di natura economica, no, socio-economica, eccetera, abbiamo portato artisti importanti, provenienti da tutto il mondo, quindi abbiamo cercato comunque sempre di introdurre motivi nuovi che portassero, alimentassero questa differenza, no, quindi, diciamo, io odio, come dire, l'idea di una città-museo che caccia le persone e museifica tutto in senso, no, come dire, turistico oppure la conservazione a tutti i costi, oggi non ci si può sedere sulla scalinata di Trinità dei Monti, la trovo una delle cose più assurde, no, da combattere, io sempre dico andiamoci a sedere tutti i giorni alle 5 lì e riprendiamo il diritto di sederci su quegli scalini che sono un pezzo di città, dall'altra parte mi piace molto il museo città invece, cioè il museo che accoglie la città diventa uno spazio agonistico dove tutti i pezzi si incontrano, si confrontano anche con una parte di conflitto perché i paradigmi non vanno pacificati necessariamente, possono anche una volta che si sono incontrati confermarsi nelle loro irriducibili diversità. esatto, quindi site specific, lo spazio che non è più città, ormai lo spazio tra l'altro con la tecnologia è liquido, è diffuso, lo stesso festival oggi stanno avvenendo cose in diretta in tutto il mondo per il festival delle periferie, al MAM che è un posto piccolo rispetto all'universo, però gli sono arrivate proposte culturali di nutrimento reciproco di scambio da tutto il mondo il macro è stato lo stesso quindi diciamo che questo scambio di nutrimento reciproco tra chi abita nel luogo e chi che può essere anche il luogo fisico del museo quando esiste nel modo tradizionale e chi lo frequenta da fruitore oppure perché interviene con delle attività specifiche è fondamentale nei tuoi lavori ed è fondamentale quasi non provocare ma invitare al conflitto positivo il conflitto lo spazio agonistico che ti piace citare ma ha un dialogo forte spinto i progetti di Giorgio non sono spesso lo dico per averli frequentati da dentro per aver ascoltato molte persone che si interfacciano da fuori ai progetti non sono spazi semplici perché tu sfidi anche il fruitore a uno sforzo intellettuale questo è stato spesso rimproverato anche il macro era uno spazio disorientante soprattutto per chi lo frequentava una volta sola perché lì l'unità di misura non era la mostra così confortante come diceva Vincenzo lo spazio consolatorio della bellezza ma l'unità di misura era la giornata se non la singola ora quindi era uno spazio che più si frequentava più si capiva più ci si affezionava e più lo dico con affetto più non se ne potesse fare a meno perché diventava un'abitudine urbana alla vita cittadina che si arricchiva poi con un ingresso gratuito che è un altro dei leitmotiv fondamentali per cui tu ti batti sempre perché il museo deve essere uno spazio offerto gratuitamente quindi quello non deve essere un ostacolo almeno per chi vuole frequentarlo voi come come vi siete posti in questo voi avete fatto parte di molti conflitti avete fatto parte di talk di discussioni di performance nel caso di Vincenzo che ha abitato il macro per per tante settimane come si risponde al fruitore che oggi nel come dire nella velocità della vita attuale che è la vita on life quindi tra telefonino lo scorrimento come si convince il visitatore a fruire a sostare a capire e ad approfondire un progetto che non è di semplice di immediata ricezione a me sembra che diciamo Giorgio abbia diciamo individuato una un tipo una tipologia di esperienza che tende a che tende poi a riprodurre e che ha una sua cifra sulla quale diciamo capisco la sua distanza sulla nozione di comunità in senso antropologico ma nessuno di noi l'ha mai difesa il problema è casomai se ci diamo degli strumenti per conoscere quello che facciamo ecco io proprio al macro ho lavorato con gli studenti della scuola di specializzazione in beni storico artistici lavorando con un approccio etnografico e credo che l'approccio etnografico sia uno strumento utile capire quello che sta avvenendo in questo momento sapere oltre la nostra coscienza come avvengono le dinamiche tra le persone proprio perché il museo costruisce relazioni come giustamente segnalate tutti e tre ecco rispetto a questo credo che il modello diciamo almeno mi sono azzardato a immaginare che il tipo di relazione che costruisce Giorgio va oltre la diciamo la mostra o lo spazio museale normalmente inteso è un qualcosa che ha dentro soprattutto la relazione e una pratica di forte condivisione io ho immaginato che questa potesse essere la nozione diciamo degli antropologi di festa perché è un luogo più dell'indifferenziato perché è un luogo dove diciamo trovarsi non necessariamente in un ruolo definito ma mutevole è in questo senso diciamo un luogo meticcio è un luogo dove gli incontri possono essere dei più diversi a me sembra che questo dispositivo come piace chiamare a Giorgio tende in qualche modo a riprodursi ed è la formula vincente perché uno balla ed è questa l'abitudine che tu segnalavi Claudia uno va là perché c'è il vortice perché va alla festa perché ci va non perché ci sono le persone che già conosce ecco ma sono è una situazione che nell'indifferenziato crea un qualcosa che forse dobbiamo meglio chiarire che è la visione di un moto creativo è come se noi in questo momento diciamo di grande crisi io ritorno al tema della crisi che è proprio una crisi di immobilità che abbiamo di fronte perché anche la pandemia non sembra che ci dia degli strumenti tanto meno il recovery plan degli strumenti per cambiare quello che sta avvenendo e quindi abbiamo bisogno di luoghi dove possiamo immaginare la differenza ecco e qual è il luogo migliore dell'incontro indifferenziato che si dà delle volte vi rimando al tema dell'artista diciamo l'autocandidatura nella nozione che aveva Giorgio che mi sembra una maniera per dire forse sei sfuggito alla galleria ma non sfuggì a noi al nostro censimento se ho un altro due minuti ecco allora vorrei fare un passo più avanti e dire ma come funziona ulteriormente questo meccanismo e perché secondo me è diciamo levatrice di di un cambiamento di una possibilità di superare la crisi allora c'è un dispositivo c'è un un qualcosa che chi ha letto De Martino la terra del rimorso si ricorda a un certo punto la condizione della tarantata in una situazione diciamo catatonica viene sottoposta a delle stimolazioni da parte di un'orchestrina che gli fa vedere colori e musica come si chiama questo questa specifico strumento per far sì che lei senta diciamo qualcosa di diverso da quello dal buio interno e poi e provi in questo senso a diciamo così a smettersi in sintonia con quella musica e quindi con anche la sua crisi si chiama scazzicare allora voglio dire permettetemi come lo possiamo chiamare Giorgio De Finis un suonatore di orchestra dell'orchestrina della taranta che fa ballare e che in questo senso è capace di rappresentare la condizione di crisi allora io mi auguro che il museo delle periferie vada avanti grazie sicuramente anche a Claudia in questa direzione che la metafora del ballo capace di mettere a punto la condizione di crisi che abbiamo e quindi di rappresentarla e modificarla potrebbe essere un buon strumento Vito ti passo la parola sì dunque diciamo diciamo questo che Vincenzo insomma ha ha spiazzato con questo riferimento e questa citazione io ritornerei invece a una delle parole chiave del museo contemporaneo che è quella di straniamento cioè di fatto un'esperienza come quella che tu Giorgio hai costruito insomma in questi anni è fondata sull'idea di straniamento sarebbe troppo facile etichettare tutto questo come museo liquido con una metafora tutto sommato che rinvia la sociologia americana e che insomma anche abbastanza abusata forse è necessario approfondire invece lo sforzo di realizzare pienamente quello che poi se mai vogliamo ragionarci lo possiamo fare dice la prima frase della nuova definizione di il com di museo il museo è uno strumento della democrazia mi pare di ricordare polifonico inclusivo mi pare che sia questa proprio la prima democratizzante ecco e la scritta sul muro dateci un museo può essere interpretata in due modi da un lato portateci il museo in periferia e però saremmo ancora in una logica di democratizzazione della cultura che è stata del tutto tipica del dopoguerra degli anni 60 gli anni in cui per per intenderci lo stesso centro Pompidou ha fatto delle esperienze interessantissime di portare il museo in periferia io insomma ho partecipato a dei progetti europei col museo Piccolini negli anni in cui il Cabranli realizzava dei progetti nel corso dei quali si realizzavano laboratori nelle banlie ecco c'è stato tutto un movimento ispirato dalla demoralizzazione della cultura che ha portato al decentramento l'esperienza di Jack Lang in Francia diciamo così è stata anche per certi versi pionieristica no? e tuttavia voglio dire siamo ancora all'interno di un format abbastanza ormai superato diciamo così nell'epoca in cui tutto sommato è la democrazia culturale quella che conta e le due parole fondamentali del fare museo di oggi credo che debbano essere responsabilità e libertà responsabilità intesa nel senso nel senso di interpretare fino in fondo quella che è la soddisfazione dei bisogni del pubblico che naturalmente chiede di partecipare e di essere protagonista anche di una produzione culturale e abbattere insomma le barriere i muri del museo aprendosi al territorio è inevitabilmente inesorabilmente vuol dire un passo in quella direzione e libertà nel senso che il museo deve essere difeso per quello che negli ultimi 50 anni è diventato cioè un'arena un forum non più un luogo aperto appunto al dialogo al confronto e alla comunicazione se volessimo trovare un così un antecedente anche anche nobile non so se tu hai avuto il modo di confrontarti c'è un'esperienza che veniva segnalata in uno di questi convegni che abbiamo fatto negli anni scorsi da una collega italiana che ha lavorato molto in Francia e che è l'esperienza di Thomas Hirschhorn questo artista svizzero fatta con il le musée précaire di Albini un'iniziativa che nel 2001 fa sì che questo artista che io ho avuto piacere voglio dire di così di vedere nel 2011 alla Biennale di Venezia dove rappresentava la Svizzera nel padiglione c'era un'installazione di carta argentata di di bambole e bamboline che piacciono tanto a Vincenzo straordinaria insomma lui ha portato un container in un quartiere periferico di una cittadina di una piccola cittadina del francese e e lì ha cominciato a accumulare oggetti insomma e a riusarli mettendoli in gioco nel rapporto con la periferia locale con gli abitanti del posto siamo nel 2004 l'Anacostia Museum citato da Claudia in apertura del 67 quindi diciamo che c'è proprio un processo che trasforma il museo e che conduce a questa nuova definizione di museo sulla quale stiamo riflettendo e forse il contributo che tu hai potuto dare dalle esperienze del MAM ad oggi indica che questa è una strada percorribile cioè semmai voglio dire si tratterà di rinunciare ad un'immagine di museo un po' troppo imbalsamata in un'unica categoria in un'unica definizione anche perché il museo come abbiamo detto forse oggi è diventato essenzialmente un luogo di comunicazione uno spazio terzo un luogo dove poter dare spazio al dialogo in questo magari mi permetto visto che poi i tempi sono stretti non voglio prendere troppo spazio di segnalare l'opportunità di fare rete magari in maniera più stretta e con le istituzioni più tradizionali come abbiamo tentato di fare anche quando ci siamo incontrati al museo pigorini e in questo centro del museo che voleva affrontare il processo di decolonizzazione insomma ci siamo incontrati perché la tua esperienza di metropolis potesse in qualche modo dare un contributo al lavoro di confronto con le diaspora che al museo pigorini incontravano le collezioni per metterle in discussione entrando in uno spazio aperto al dialogo e alla comunicazione ecco riuscire a fare rete significa anche darsi la possibilità di sfidare ecco una certa museografia che rischia dopo la pandemia di tornare al passato in maniera insomma irrevocabile quindi dateci un museo e tu io l'hai dato in questo momento torniamo quindi al direttore d'orchestra l'orchestra che ti trovi oggi di fronte è un'orchestra fatta di circa 400-500 persone che per il museo delle periferie e in particolare in questi tre giorni per il festival ha fatto prove d'orchestra per molti mesi è stata sensibilizzata sono realtà istituzioni università con cui già c'è una rete condivisa e proficua gallerie artisti centri sociali associazioni culturali quindi tu adesso sei un direttore d'orchestra che ha una responsabilità responsabilità uno ce l'ha sempre le cose che fa soprattutto se non le fa chiuse dentro casa nel proprio studio ma poi le vuole rendere le vuole mettere sul tavolo io le metto sempre sul tavolo quello che vorrei dire diciamo e sono d'accordo su una parte del paragone che faceva Vito io considero i miei progetti anche dei progetti artistici però i miei progetti artistici si limitano a poche regole del gioco alcuni principi generali che diciamo attraversano tutti i giochi ma molto generali molto ideali molto condivisibili diciamo e qui andiamo nella direzione della democrazia cioè andiamo nella direzione di quello che è la parte politica per me è fondamentale di un museo cioè io faccio musei politici diciamo nel senso nobilissimo della parola che forse dall'89 ha perso questo senso col crollo del muro quella che si chiama la post democrazia però diciamo secondo l'indicazione ICOM il museo può diventare un piccolo luogo dove questa pratica democratica che un po' sparisce un po' svanisce un po' si riduce al rito civile mette una croce quando si vota e poi non conto più niente fino alla prossima croce ecco c'è un po' poco per considerare questo un esercizio della una pratica democratica il museo come lo vedo io è questo c'è uno spazio dove i punti di vista le immagini i paradigmi le visioni del mondo si confrontano litigano discutono ma è uno spazio dove realmente ciascuno può dire quello che pensa e confrontarsi con gli altri per questo utilizzo l'espressione di Chantal Mouffe che sa di politica e sa insomma diciamo che è quella appunto spazio agonistico no per quanto riguarda la parte artistica invece bisogna essere attenti perché diciamo i miei progetti invitano sempre prima gli altri artisti a partecipare e poi quello che si chiama pubblico che io non chiamo mai pubblico perché dentro questi progetti partecipati chi partecipa è attore dell'azione quindi non è mai pubblico non è mai uno che guarda è uno che fa è uno che partecipa uno che prende la parola quindi e se tu inviti gli altri artisti non gli metti il pennello in mano dicendo cosa deve fare perché se no altro che di quindi non mi sento un direttore d'orchestra perché il direttore d'orchestra ha la bacchetta in mano e dice agli altri ora attacchi tuo cioè io faccio un ruolo anche di cura chiaramente progetti complessi con tanti partecipanti va anche organizzare c'è una parte di organizzazione se no sarebbe il caos la festa ma la festa come dire bacco non so Dioniso ecco io non faccio Dioniso se no sono un po' bulimico può sembrare un po' un potlacce perché c'è un eccesso di materia sul tavolo ma non è c'è scambio c'è reciprocità sì sì no 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 ma sono cose che condivido ci sono no però diciamo servono ad alimentare questa macchina è materia vivente che deve entrare dentro questa macchina che è una macchina maieutica che è una macchina che lavora tutti i giorni sempre per proporre cose nuove cioè se io devo offrire degli spazi a tutti per mettere insieme le idee sul tavolo io devo farla muovere questa macchina se no ne scelgo tre o ne ospito quattro e il gioco per sei mesi è fermo il gioco deve essere un gioco necessariamente dinamico no tra l'altro il museo dico solo questo non si prende mai diciamo appunto e qua ritorna il direttore ma non si prende mai non mette mai la bandiera dicendo questo è giusto questo è sbagliato questo è importante questo no fa tre passi indietro arretra e dice sei tu il museo in questo spazio tempo che può essere cinque minuti un'ora una settimana un mese e gli altri hanno l'opportunità di valutare quindi lo spettatore super emancipato deve entrare in quello spazio non come in una chiesa ma molto attento a dire cosa sto sentendo cosa sto guardando perché non c'è il direttore il maestrino qualcuno che diciamo risolve il problema a monte dicendo te lo dico io questa è arte e quindi o ti genufletti oppure sei un ignorante cosa che spesso viene detta di chi come dire ha qualche dubbio su un'opera che magari non riesce a capire e questo non riuscire a capire non è ignoranza dipende anche dall'enorme quantità viviamo nell'epoca della cosiddetta arte espansa quindi sai non si può capire tutto se non parlando con l'artista approfondendo entrandoci in contatto quindi questo è un po' quindi sì sono cose partecipate sono dispositivi artistici ma anche talmente aperti che la forma fisica la si vede solo a posteriori quando chi ha deciso di partecipare di accogliere il progetto gli ha dato corpo quindi io non so mai prima cioè non so non sapevo prima di un mese fa questo festival che corpo avrebbe avuto come non sapevo prima della chiusura del Magrasilo che forma avrebbe avuto quel museo pur conoscendole in qualche modo dettandole le regole del gioco esatto diciamo che è un'orchestra a cui non sono stati imposti gli spartiti e che è un'orchestra solo perché ha degli spazi e dei luoghi definiti per poter incastrare la coralità è jazz è un'improvvisazione jazz esatto quindi dovremmo chiamare di Martino quindi comunque stiamo parlando di un museo politico c'è stata una grande discussione negli anni negli studi museologici sulla domanda sul la domanda a cui alcuni rispondono positivamente altri no cioè se il museo debba essere uno spazio neutro qui la 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 neutralità è assolutamente politica e non è neutralità nel senso che appunto fare tre passi indietro ospitare il conflitto e non creare gerarchie tra quello che si ospita dentro il museo o dentro un festival in questo caso e far sforzare le persone di ascoltare prima di tutto di guardare e poi soprattutto appunto i tuoi progetti non appendono mai quadri alle pareti non sono musei in cui una collezione fondamentale cioè c'è sempre la possibilità di approfondire con lo stesso creatore di quello che ha portato fisicamente che possa essere una performance o una installazione si si no senz'altro non c'è niente contro i quadri anzi insomma li amo sono uno dei modi diciamo che gli artisti scelgono per consegnarci la loro poetica la loro estetica però la mostra in sé diciamo non mi ha interessato all'inizio ma semplicemente perché come dire offre meno velocità in questa porta girevole che io sentivo di dover mettere in movimento se il macro asilo avesse avuto gli altri due anni che all'inizio sembrava avessi io avrei reintrodotto la mostra con un progetto che si chiamava Exposition che era una grande macchina delle mostre dove tre, quattro, cinque mostre con curatori e quindi cornici criteri curatoriali diversi sarebbero state insieme senza segnaletica a terra quindi come dire non solo creando come ha fatto Cristiana Collo in maniera esemplare la Galleria Nazionale no cioè come dire degli incontri nuovi tra le opere che ovviamente stimolano riflessioni immaginari no in ciascuno che deve rispondere al fatto perché stanno insieme che c'entrano visto che non c'è più la storia dell'arte che ci guida no uno dopo l'altro in questo e quello era già un aspetto ma in questo caso il criterio diciamo del curatore che entrava in frizione quindi le cornici nella Galleria Nazionale la cornice è una è quella dell'artista curatrice che è Cristiana no e in questo caso si mischiavano le cornici e quindi tu era come vedere un film di Indiani e Cowboy che a un certo punto c'ha una scena di fantascienza e poi una invece Mel Brux ecco Mel Brux sì ma lì capisci il dietro le quinte lì capisci che non sei stai dentro cornici no e questa la cornice non si vuole mai far vedere perché appunto c'è l'idea che tu mostri l'arte mostri la verità non mostri un punto di vista la cornice è il punto di vista quindi io volevo come dire siccome il macro è stato un po' far vedere il renudo volevo lavorare anche su questo con la mostra con il dispositivo della mostra non c'è stato il tempo di farlo magari lo faremo in un'altra occasione però ecco diciamo non rifugio non rigetto la mostra per principio diciamo esatto spogliare il re e scoperchiare questa pentola che è sempre chiusa quindi svelare la cornice che è parte del gioco quindi è anche un modo di rendere partecipe chi fruisce del contenuto museale quindi torniamo su questo ruolo politico siamo in periferia un museo che si occupa e si occuperà di periferie che le porta al centro della discussione arriva un museo qui e voi cosa caldeggiate cosa immaginate e cosa ritenete fondamentale per il lavoro che farà da qui innanzi il museo delle periferie insomma in quanto tempo abbiamo 30 secondi ciascuno no dite pure ma insomma il programma è credo che sia giusto farlo io credo che non va disperso il diciamo l'esperienza passata per esempio abbiamo parlato pur tu hai accennato all'Anacostia Museum di Washington nasce con l'idea che i bei musei che stavano dentro Washington il mall e d'altro cedessero qualcosa per portare la cultura in una zona periferica questo museo è diventato piano piano il museo della cultura afroamericana e soprattutto ha incominciato a fare lavori e questo è una prima indicazione diciamo con taglio anche antropologico su per esempio come si vive in una situazione di difficoltà di crisi qual è il diritto della città che ha uno che vive in periferia ultimamente lavora sulla giustizia alimentare e la prima mostra che ha fatto è stata su i ratti sul il fatto che i topi infestavano e quindi come evitare di rimanerne in qualche modo impigliati dentro le loro storie e storie di ratti allora ecco a mio avviso questo tipo di musografia sociale chiamiamola così come quella dell'ecomuseo ci hanno delle cose da insegnare anche ad un progetto artistico che va in una direzione diversa come progetto artistico io coltiverei molto un autore che mi sembra voi avete il museo di Noschatel e il museo riflessivo per eccellenza è un museo che ha sperimentato un rapporto tra antropologia e dimensione artistica in modo molto creativo ma lavorando sugli elementi di crisi che non necessariamente dentro Noschatel come paese ma più in generale per esempio criticando diciamo le posizioni le prospettive marziste per fare un esempio quindi in casa sul diciamo il futuro il collezionismo ecco tutta una serie di temi che in qualche modo creavano comunità che diventava una maniera per essere riflessiva allora quindi sì museografia sociale sì museografia artistica con questa ampiezza ma anche dimensione riflessiva il tema della cornice è fondamentale ma in che modo questo ce l'ha insegnato anche Foucault noi e Batson non possiamo noi vedere la cornice per forza ogni volta dobbiamo giocare tra dentro e fuori ed è quello che meritoriamente state facendo grazie entrare dentro uscire fuori diceva no entrare fuori uscire dentro diceva Basaglia con il progetto di studio azzurro di cui parleremo nel pomeriggio quindi questo gioco questo scambio continua e soprattutto decidere di conservare il futuro come insomma mi piace ripetere spesso ultimamente perché è un po' difficile immaginare appunto però cosa dovrà essere tutto questo Giorgio non ha deciso di cambiare le regole del gioco utilizzando però lo stesso mazzo di carte tanto per usare una metafora abbastanza alla moda cioè ha deciso proprio di cambiare mazzo di carte quindi non è che sono le regole che sono cambiate e in questo senso un rischio può essere quello di rimanere in una nicchia e di rinunciare all'arena che è quella della competizione con le piccole grandi istituzioni che comunque hanno piacere di rimanere all'interno della dimensione del patrimonio culturale in questo senso dicevo prima che sfiderei le altre istituzioni ma anche sul piano di un tema che oggi è diventato di grande attualità e che magari in una prospettiva anarchica potrebbe non essere di grande interesse ma invece io insisto possono insegnare molto queste esperienze il sistema museale nazionale per esempio che prevede un accreditamento dei musei di ciò che si chiama museo che ha qualcosa a che fare con il museo sulla base del rispetto di determinati livelli uniformi di qualità ecco se rapportata la tua esperienza voglio dire di questi anni a quei livelli sembrerebbe impossibile immaginare che questa esperienza possa essere assimilata ad un museo e rientrare in una definizione di museo invece lo sfiderei tutto questo perché esperienze anche straniere dimostrano che anche appunto situazioni con una cornice così poco chiara perché appunto non è facile vederla possono entrare a far parte di questo mondo e essere di grande stimolo anche al cambiamento dei musei che hanno tanto bisogno di cambiare ma aggiungerei proprio solo una parola su questo dateci museo e anche su questa idea di portare dal centro cose verso fuori che sembra un po' una concezione io credo molto nella validità di creare comunque un presidio culturale a Torbella Monaca nuovo e quindi diciamo di istituire il primo museo di Roma capitale fuori dal Gra per me è un gesto anche simbolico va fatto è importante no però non è che noi stiamo portando il centro in periferia non è un gesto assistenzialista no no assolutamente no ma anche abbiamo detto che oggi certo no no ma dico però questo lo stiamo dicendo vogliamo portare il primo museo di Roma capitale fuori del Gra allargare oltre i sette colli diciamo il solco di Romolo anche diciamo la progenie di Remo questo lo diciamo però a me interessa portare la periferia in centro intanto in termini di innovazione la periferia è un po' meno sotto schiaffo diciamo e quindi può insegnare qualcosa al centro e poi forse dobbiamo essere un po' più tutti periferia in questo mondo mi riferisco al ruolo proprio dell'uomo dell'essere umano anche diciamo come dire l'emergenza climatica se iniziamo a pensarci un po' più periferia forse riusciamo a dare spazio alle altre forme di vita quindi secondo me dobbiamo insegnare al centro a essere periferia ecco questa potrebbe essere una cosa interessante da provare perché questa rivoluzione copernicana l'ha fatta l'astronomia ma noi ancora consideriamo il centro centro in maniera gerarchica è tutto quello che ruota intorno se diciamo il centro e la periferia invece di stare in pianta fossero visti in prospetto io credo sarebbe quasi un cono una piramide quindi immagino questo vale per il valore metro quadro ma vale per la presenza dei monumenti per la presenza delle attività culturali il potere quindi diciamo non è vero che la periferia non c'è più la periferia c'è ma forse dobbiamo superare questo paradigma e provare a dire forse il mondo dove tutti si sentono un po' meno centro e un po' più periferia magari è un mondo migliore ma io in periferia ho sperimentato di più che non al centro c'è diciamo c'è meno coercizione egemonica in periferia si ha la possibilità di sperimentare ci sono anche banalizzazioni però ci sono cose che al centro non ti vengono permesse bene noi dobbiamo concludere questo forse è il primo momento di riflessione condivisa aperta al pubblico possiamo dirlo perché anche un pubblico che ci segue in streaming da casa sul museo delle periferie dentro al festival delle periferie siamo molto contenti insomma questa è una riflessione che non si chiude qui che andrà avanti speriamo a lungo che si accrescerà con altre voci e noi vi salutiamo ringraziamo Vincenzo Padiglione Vito Lattanzi Giorgio De Finis ovviamente rimane qui al festival e noi lo ringraziamo sì lo ringraziamo di aver architettato questa festa e ringraziamo Claudia adesso comunque continuiamo a parlare ancora per un po' di musei no Claudia perché c'è questo contributo che abbiamo registrato tra l'altro con un caro amico di Vincenzo che è a Scania Celestini parlando di un altro museo che non c'è senza pareti lì forse veramente ma alberi e cemento perché adesso stiamo per vedere un video realizzato da Scania Celestini che per la prima volta presenta questo progetto che si chiama Museo Pasolini è un progetto tutto da costruire lui ce lo racconterà sui luoghi pasoliniani quindi ci porterà in giro per una Roma sicuramente periferica e capiremo in cosa consiste questo museo non anticipiamo troppo vi auguriamo buona visione al termine della quale ci sarà speriamo una piccola sorpresa se ci riusciamo ancora con Pasolini e Giulia Nania e poi Emanuele Lo Giudice salirà sul palco su questo palco perché parleremo di un'altra esperienza peculiare museale che è il Museo Gassoso quindi buona visione col Museo Pasolini e a tra poco tra poco grazie a tutti grazie a tutti